Che cosa serve oggi per pensare una nuova visione della montagna, una nuova dimensione della montagna? E allora credo che lì dobbiamo partire da alcune questioni puntuali, concrete, di come funzionano questi territori, di che cosa hanno bisogno, di che cosa bisogna fare per invertire il processo di spopolamento, di pauperizzazione della montagna e quindi bisogna, io credo, ripartire proprio dall'essenza stessa della montagna, che cos'è la montagna, che cosa produce la montagna. Cosa condividono quelle due visioni, sia quella di Heidi, quella romantica, quella della musificazione, sia quella della modernità, che si tratta di una montagna essenzialmente da consumare, che si tratta di una montagna che metta al centro il tema del consumo, una montagna da vedere, da osservare, ma che non è una montagna che metta al centro, come direi, invece un'idea del produrre. Ecco, io credo che oggi ci sia molto poco oramai da consumare in vecchi termini, con le vecchie modalità del Novecento, dell'Ottocento in montagna, ma che la montagna vada ripensata a partire da un'idea della produzione, da un'idea di una montagna che produce. Il tema non è semplicemente conservare, il tema non è semplicemente consumare, il tema non è semplicemente quello di dar vita a una politica di tutela, ma il tema, il fulcro dal quale si vuole, si deve partire se si vuole avere un'idea davvero non solo contemporanea ma efficace, è mettere al centro il termine del riabitare. Se noi partiamo dall'idea del riabitare, di avere delle nuove comunità, di avere una montagna viva, ecco che allora le questioni della conservazione, le questioni della tutela, le questioni di che cosa deve fare e produrre la montagna assumono totalmente un nuovo significato. Da molto tempo io lavoro al grande processo di rigenerazione, di riattivazione di una piccolissima comunità in Alta Valle Po, un paese che si chiama Ostana, da cui è nata la storia del film Il vento fa il suo giro, che è un caso molto interessante perché vede l'incrocio, il meticciato sia delle culture di chi è rimasto e di chi ha dato vita al processo di rinascita di questo paese, ma a cui si aggiungono le culture portate dai nuovi abitanti, dai nuovi montanari, che sono tendenzialmente giovani, con alto livello di scolarizzazione, che hanno dei figli e che portano anche delle nuove visioni. Ma ci sono ad esempio anche sei pakistani, perché questa è una delle poche comunità in Piemonte che ha deciso di accogliere invece di rifiutare e anche queste persone, questi sei giovani pakistani sono entrati dentro questo progetto di costruzione di una nuova idea, come direi, di abitare la montagna. Questo non è un paese che vincerà le proprie sfide sulle grandi metropoli, sulle grandi città, è un territorio storicamente costruito su un tessuto policentrico, su delle piccole realtà locali, un paese innervato appunto intorno all'osso della montagna alpina, all'osso degli appennini e questi territori da appunto spazi dimenticati, da problema sociale, economico, di ritardo, di arretramento, di marginalità, possono invece oggi diventare un luogo dove sperimentare delle politiche non solo di riabitare ma di creazione di nuove economie, di creazione di nuove forme di socialità. Allora qui diventa assolutamente fondamentale e strategico e qui l'azione, il progetto del FAI può essere davvero molto importante, di come riuscire a passare a un'idea della conservazione e della tutela che metta però al centro il tema della riabitabilità di questi territori. Noi dobbiamo finalmente superare un'idea semplicemente, come dire, di conservazione, che però come abbiamo detto è una conservazione talvolta molto legata a un immaginario urbano sulla montagna, su questi territori e fare come avviene in altri paesi, cioè conservare in maniera molto accurata e con grande attenzione il patrimonio storico che abbiamo ma al tempo stesso non avere problemi a sperimentare nuove vie, nuove forme di architettura di fronte a esigenze e bisogni che sono della contemporaneità.